un saluto a tutti gamers e benvenuti o bentornati ancora su il tubo di french 11 ancora con la carriera del palermo siamo qui in serie a e oggi contro la lazio in casa loro quindi a roma questo l'olimpico settima posizione con 13 punti lazio in quarta posizione solamente un punto sopra di noi cominciamo piove quindi subito direi governo ladro so c'entra poi ogni volta sta cosi non ho capito sta battuta proprio non non la so non so cosa voglia cosa voglio dire attenzione palermo robinio non era robinio si era robinio attenzione qual capitano passala dentro porca merda che se ci arrivava lì non ce n'è eccolo passaggio profondo per bacinovic che si allunga il pallone crossa in mezzo robinio di testa fuori di poco di poco robinio grandissimo protagonista quest'anno almeno in questa fase iniziale del campionato rivediamolo qua però poteva cazzo andarci coi piedi invece che con la testa difesa qua un po troppo alta dobbiamo dirci la verità vede robinio libero non ci arriva troppo lungo il portiere questo è fallo rigore vogliamo il rigore qua no dove la dai attenzione qua palla profonda per hernandez capitano hernandez il tiro e c'è il gol c'è il gol che gol di merda signori spara a tutti hernandez li ammazziamo tutti li ammazziamo tutti questa guardate che palla filtrante grandissima palla e poi forse anche con una deviazione del difensore laziale vediamo no non c'è nessuna deviazione hernandez che infila il pollicione prima di tutti e la butta dentro là dove il portiere della lazio che non si vede chi è non so più chi cazzo non è marchetti non so chi è non può arrivare 1 a 0 eccolo qua chi è scusa come ti chiami 1 a 0 capitano hernandez al 27esimo va provato addirittura ad andare a segno attenzione qui la lazio in avanti la deviazione di testa e poi spazza la difesa bruttissimo momento questo per il palermo palermo in affanno dopo il gol dell'1 a 0 e qui c'è un fallo fallo di prima che avevamo visto che erano questo è proprio un brutto fallo ma qui bisogna fare per forza così a non spruzza l'arbitro lo spray per terra come nei mondiali vabbè attenzione qua spazza via sta palla butta la de no e grandissima difesa la danno di nuovo dentro ancora qui la palla aspetta il compagno lo serve nelson nelson il nuovo acquisto nelson arriva a fondo campo la cross in mezzo dentro uuuu deviazione calcio d'angolo come si dice gol mangiato col subito quindi attenzione adesso uuuu no uuuu no 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 sorrentino fuori dalla fuori dalla porta palla fuori meno male che sono scarsi vediamo se dobbiamo sostituire qualcuno arrivato qua era hernandez attenzione qua scoperti la lazio in avanti cavalcata di non so bene chi attenzione attenzione non facciamoci fregare adesso no no signori no signori interviene in scivolata calcio d'angolo attenzione ultimo minuto siamo al 90 esimo 90 esimo più recupero la lazio in corna ma sorrentino c'è sorrentino c'è ora perde tutto il tempo possibile ed è finita palermo ancora vittorioso non perdiamo più signori non si perde più si va a vincere lo scudetto eccoci dunque dopo la vittoria sulla lazio con la seconda partita di questa puntata 23 esimo episodio della serie ex juventus ora palermo e oggi contro il genoa siamo in casa davanti ai nostri tifosi al terzo posto a 16 punti napoli prima 22 mentre il genoa non non si sa partiamo o finalmente non piove non piove governo ladro lo stesso ci sta allora attenzione qui subito il genoa in avanti no è brutto questo fallo resta semi paralitico per un attimo il nostro giocatore bello questo pallone dentro per da pre là da pre là ci arriva ci arriva poi si stoppa il pallone bellissimo da pre là no vai la crossata pensavo fosse uscita non c'è arrivato robinio è arrivato prima il portiere del genoa no attenzione qui genoa in avanti recupera no non recupera un cazzo prova recuperare il palermo eccolo subito dentro il palermo che ha fatto qua scoppiata la bomba la bomba del mondo dentro non ci è arrivato che cazzo la juve invece abbiamo vinto contro roma fiorentina e lazio quindi palermo che appunto contro le big tutto sommato non tradisce no non ste cagate non ste cagate via via sto pallone da lì no c'è la rete del genoa il quindicesimo girardino buca sorrentino abbiamo fatto anche la rima errorissimo qua della difesa buco poi bella girata di girardino che in fila sorrentino ecco io non capisco perché contro le grandi vinciamo poi contro le piccole facciamo ste cagate ora facciamo un po di pressing e mettiamo anche oggi leggermente offensiva la formazione troppo offensivi ci inchiappettano di nuovo gioca bene il genoa cazzarola e qui c'è un fallo devo parlare piano perché altrimenti con il kinect mi becca e poi ecco dicevo devo parlare piano quando ci sono i falli così perché sennò poi mi dice che protesto contro l'arbitro ma vaffanculo no uh meno male che ha sbagliato trentatresimo signori qui bisogna svegliarsi qui bisogna svegliarsi perché è il momento di pareggiare per cominciare poi la ripresa magari sull'uno a uno e tentare l'affondo finale ma bisogna farlo adesso se no diventa troppo tardi bel pallone questo per robinio robinio no ha provato a tirare all'ultimo fermato vaffanculo va mi chiede solo quando giocano contro di noi sti coglioni giocano bene guarda guarda lì guarda guarda l'argentina io fa guarda che roba guarda lì oh mi abbiamo fatto dentro robinio dalla bellissima non può sbagliare non può sbagliare è in fila è in fila sì sì robinio sì robinio uno a uno settantatresimo vaffanculo va portiere di merda guardate che palla guardate che gioco signori che gioco questo palermo mamma mia un quarto d'ora per vincere forza guardate che roba robinio facciamo la seduzione partita che partita e qua va al portiere pallone cioè pallone al portiere novantesimo è finita uno a uno non ci posso credere mi eccola qua fischio il finale dell'arbitro uno a uno dopo la vittoria con la lazio dunque partita bellissima direi io contro il genoa una forse delle migliori partite a livello di intensità quella di oggi fra palermo e genoa di tutta la stagione con questo per noi invece è tutto ci diamo appuntamento al prossimo video il ventiquattresimo episodio ciao